100 notizie Brindisi, un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Giorni di fuoco in gran parte d'Italia ed anche a Brindisi. Quella di ieri è stata una domenica infernale. Un vasto incendio infatti ha interessato la litoranea a nord della comune capoluogo. Sentiamo Fabrizio Caglianiello. Ancora incendi e ancora piena emergenza a Brindisi. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati per gran parte della domenica senza sosta per spegnere almeno tre incendi che hanno l'ambito il litorale nord della città. Le zone interessate dalle fiamme sono state in particolare quelle di Apani, Giancola e Acquechiare. Fumo e fiamme in alcuni casi, alte oltre 20 metri, hanno raggiunto le spiagge dove i bagnanti sono stati costretti a correre via o addirittura a ripararsi in acqua. In zone Acquechiare, in particolare il punto più colpito dagli incendi, i proprietari delle auto hanno fatto giusto in tempo a spostare le proprie vetture parcheggiate prima che fossero travolte dal fuoco. Evacuato Lido Sant'Anna. Un vero e proprio inferno, l'aria è irrespirabile, ve lo possiamo assicurare. Sono le 19 e ancora purtroppo la situazione non è tornata alla normalità. Super lavoro come sempre da parte dei vigili del fuoco. Sono andati distrutti gran parte dei canneti che si trovano qui sulla litorale. Il problema è che il vento sta continuando ad alimentare gli incendi che ormai hanno interessato gran parte della costa nord di Brindisi. Non so se riusciamo a mostrare. Qui è una delle strade che sono state chiuse al traffico con la Guardia di Finanza che non consente ovviamente il transito per motivi di sicurezza. Impegnate tutte praticamente le forze dell'ordine, ovviamente i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia, i carabinieri. È stato un pomeriggio infernale in tanti, in tantissimi che in questa domenica così calda avevano affollato le spiagge e Brindisine. Sono costretti a fuggire. Qualcuno addirittura quando ha visto le fiamme che in alcuni punti hanno superato i 15 metri di altezza si è gettato in acqua in cerca di riparo. Insomma Brindisi ha vissuto una domenica davvero infernale. Una situazione simile si era verificata domenica scorsa quando la zona di Giancola fu interessata da un altro vasto incendio che si sviluppò in tre diversi punti. Ma la situazione di ieri è stata ancora più drammatica se si considera che i roghi sono partiti in punti diversi e per questo prende corpo sempre più l'ipotesi di un atto doloso. Sul fatto sono in corso delle indagini. Quella di ieri è stata davvero una giornata infernale. La sensazione e il timore è che non sia stata l'ultima. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme soltanto dopo le 21. Quella degli incendi estivi è una vera e propria piaga a livello nazionale. Su questa questione è intervenuto anche l'ADOC di Brindisi. Serve un'azione immediata ed incisiva per tutelare i cittadini e l'ambiente. Sentiamo. Gli incendi che stanno interessando ampie zone della città di Brindisi ed in particolare la costa nord del capoluogo sono il frutto oltre che della mano criminale dell'uomo dell'incuria della mancanza di manutenzione del territorio messa in sicurezza delle proprietà e della mancanza di controlli. Così l'ADOC di Brindisi interviene sull'argomento e aggiunge neanche le recenti disposizioni sulla manutenzione dei fondi in materia di contrasto alla diffusione dell'axilella sono riuscite a prevenire quanto sta avvenendo per il semplice fatto che in pochi hanno adempiuto alle ordinanze mentre ettari di terreno risultano incolti a ridosso di strade, abitazioni ed opifici con gravi rischi per la cittadinanza e le proprietà. La situazione risulta ancora più grave, aggiungono dall'ADOC, sotto il profilo della sicurezza e della tutela del patrimonio paesaggistico. Spesso i terreni incolti sono infatti sede di discariche e con le sterpaglie vanno in fumo volutamente tonnellate di rifiuti anche nocivi e pericolosi. Molto spesso i danni riguardano zone di pregio ambientale come la macchia mediterranea, così come è avvenuto nei pressi di Giancola. Invitiamo, concludono dall'ADOC, gli organi di controllo e la stessa amministrazione comunale ad un'azione immediata ed incisiva per la messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia dei cittadini, dell'ambiente e delle proprietà. Diamo uno sguardo alla situazione Covid-19 in Puglia. Secondo il bollettino epidemiologico che è stato diffuso oggi dalla regione, oggi 2 agosto sono stati registrati 5.049 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 66 casi di positività, 5 di questi in provincia di Brindisi. Andiamo a dare ora uno sguardo ai numeri. Attualmente i positivi in Puglia sono 2.452, i nuovi casi, lo ripetiamo, sono 66. A domicilio ci sono 2.360 persone, 92 invece quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere. Dall'inizio della pandemia 6.669 sono le persone decedute, 247.130 invece quelle guarite. Andiamo avanti invece dando uno sguardo alla situazione dei vaccini perché proseguono le vaccinazioni anche nell'asla di Brindisi con circa 470.000 dosi somministrate in totale. Secondo l'ultimo report a cura dell'unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione sono 66.916 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale, il 22,8% in ambito domiciliare. Il 18,5% delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,3% a quelli compresi nella fascia di età fra i 70 e i 79 anni, ancora il 27,5% a soggetti con età fra i 60 e i 69 anni e il 27,7% ai soggetti con meno di 60 anni. Le persone fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente, il 71,1% seguita dai soggetti con età superiore ai 60 anni, dai caregiver e da altre categorie. Ed ora la cronaca. Controlli da parte dei carabinieri alla Movida Brindisina sono state nel fine settimana elevate numerose contravvenzioni. Sentiamo il bilancio. Nel fine settimana controlli dei carabinieri alla Movida del Centro Storico di Brindisi, in particolare nei luoghi più frequentati dai giovani, anche i minorenni. Commitive che a volte assumono comportamenti poco corretti, forse anche inconsapevolmente data la giovane età, atteggiamenti che possono ledere il decoro cittadino, la quiete pubblica, la sicurezza urbana e che possono anche compromettere lo svolgimento delle attività ricettive del territorio, oltre a creare situazioni di pericolo alla circolazione stradale nel caso in cui ci si metta al volante in condizioni non ottimali. In questo contesto i militari della Compagnia di Brindisi sabato notte hanno svolto un servizio di controllo in centro, dove si concentra il maggior numero di locali aperti fino a tardanotte, militari nelle zone più frequentate come Teatro Verdi, Municipio, Lungomare e Duomo e posti di controllo anche con l'utilizzo dell'etilometro per contrastare il fenomeno della guida sotto effetto di sostanze alcoliche e conseguenti infrazioni alle norme del Codice della Strada. Complessivamente sono state controllate 30 autovetture, 60 persone, elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada per uso del telefono cellulare alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono stati eseguiti 10 test con etilometro e sanzionati amministrativamente due soggetti per guida e stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In debita percezione del reddito di cittadinanza 19 persone sono state denunciate fra queste anche 5 detenuti. I carabinieri del comando provinciale di Brindisi durante i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno della percezione illecita del reddito di cittadinanza e a conclusione dei relativi accertamenti eseguiti nel mese di luglio hanno denunciato 19 persone per falsa attestazione al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Gli interventi hanno permesso di intercettare 80.946 euro indebitamente percepiti. 5 fra i denunciati hanno messo di comunicare all'Inps la propria o quella di persone con essi conviventi condizione di sottoposti ad una misura detentiva continuando così a riscuotere gli emolumenti pur non avendone titolo. Le questioni che riguardano la città di Brindisi un impianto fotovoltaico nella zona industriale sull'argomento interviene il capogruppo della PRI Gabriele Antonino che rivolge 10 domande al sindaco Riccardo Rossi per avere maggiori chiarimenti. Lo abbiamo raggiunto al telefono, sentiamo. 10 domande al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi da parte del PRI su un impianto fotovoltaico che a quanto si evincerebbe da un comunicato congiunto comune e consorzioasi vorrebbero realizzare nella zona industriale un complesso della potenza di 150 megawatt con una occupazione di suolo produttivo di 200 ettari. L'energia prodotta sarebbe destinata ad alimentare un impianto per la produzione di idrogeno sfruttando la disponibilità di acqua dell'invaso del Cillarese. Ma di questo impianto non si è mai discusso in Consiglio Comunale o nelle competenti commissioni consigliari sull'argomento è intervenuto il capogruppo del PRI Gabriele Antonino. Io faccio subito una premessa né io né tantomeno il partito che rappresento e il Partito Repubblicano siamo a priori contrari a questo investimento ma non posso fare a meno di rilevare la circostanza che sempre più spesso noi consiglieri comunali apprendiamo queste notizie molto importanti a dire il vero dalla stampa e non nelle sedi più consoni ed opportune quali le commissioni consigliari o il Consiglio Comunale stesso. Proprio per questo ho posto una serie di dieci domande al Sindaco Rossi con la richiesta di discuterne nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. A proposito di domande Antonino si chiede se mai sia stato depositato un progetto ad una manifestazione di interesse presso gli uffici comunali da parte di privati oppure se il Consorzio Industriale abbia la possibilità di 200 ettari o intenda procedere con gli espropi ancora. Ad esempio se l'impianto di produzione di idrogeno rientri fra quelli definiti a rischio di incidente rilevante e come conciliare eventualmente questa eventualità con la circostanza che il Comune di Brindisi sia tuttora sprovvisto di un piano RIR. Una notizia che riguarda le attività del Museo Ribezzo perché presso il chiostro dello stesso museo in Piazza Duomo giovedì 5 agosto alle ore 19.30 nell'ambito della rassegna culturale Il mio libro va in biblioteca dialogo dell'autore con altro da sé organizzata dal Polo Bibliomuseale di Brindisi diretto dall'architetto Emilia Mannozzi sarà presentato il libro di Mina Buccolieri Una pioggia di riso, confetti e margherite e la rassegna propone percorsi di approfondimento fra arte, letteratura, saggistiche e attualità in cui con gli autori si conversa sui contenuti della propria opera con un altro da sé, scusate alla ricerca del proprio vero volto L'autore in questo suo secondo libro un romanzo di vite diverse che si incrociano ma accomunate dallo stesso destino si pone dinanzi ai sentimenti puri e alla semplicità di altri tempi Doretta, la protagonista, si trova sin da bambina a dover fare i conti con il destino che la tempra e la mette alla prova portandola ad oltrepassare le sue aspettative i personaggi di questa storia sono persone comuni che recano nella loro interiorità un senso di eroismo intimo agiscono nel bene insomma un romanzo dalle tinte pastello dove le emozioni e i sentimenti accompagnano il lettore attraverso le vicende del ventennio fascista fino allo scoppio della seconda guerra mondiale Una mappa che indichi come sono geolocalizzate le persone con disabilità uno strumento utile in caso di emergenza del quale si è dotato il comune di Francavilla Fontana sulla questione abbiamo raggiunto al telefono l'assessore ai diritti civili Sergio Tatarano Sentiamo Nei giorni scorsi a Francavilla Fontana l'assessore ai diritti civili Sergio Tatarano e la garante per i diritti delle persone con disabilità Gabriella Nenna hanno scritto una lettera al presidente della regione Puglia Michele Emiliano al presidente del comitato regionale della protezione civile Maurizio Bruno per introdurre questo strumento nei piani di protezione civile dei comuni pugliesi a cominciare proprio dalla città di Francavilla Fontana Stiamo riprendendo grazie devo dire ad una sollecitazione della garante dei diritti delle persone con disabilità eletta qui a Francavilla qualche mese fa stiamo riprendendo un'iniziativa che già in regione era stata avviata con il precedente garante regionale riprendendo un esempio virtuoso che ci viene dalla regione Calabria che è l'unica regione che si è dotata di questo strumento che può essere uno strumento di grande utilità per le persone con disabilità noi oggi siamo impegnati in un'attività a tutto campo a 360 gradi per fare in modo che la vita delle persone con disabilità possa essere effettivamente migliore e credo che questo strumento possa svolgere questo tipo di funzione A seguito di un incontro con Gianfranco Pisano promotore di questo strumento per la regione Calabria che già lo utilizza spiega la garante delle persone con disabilità Gabriella Nenna abbiamo ritenuto utile proporre l'adozione di questo strumento su base volontaria anche per Francavilla Fontana e un passo decisivo per garantire l'accesso a misure di soccorso adeguate alle esigenze delle persone con disabilità Siamo nella città degli imperiali per parlare di lotta a randagismo sulle azioni messe in campo dell'amministrazione comunale forse tale azione hanno alcune perplessità che sono state espresse in una nota congiunta allora sentiamo la posizione di Mimmo Bungaro e Fabio Zecchino Su un'iniziativa organizzata dal comune di Francavilla Fontana per arginare il problema del randagismo intervengono Mimmo Bungaro vice coordinatore provinciale cittadino di Forza Italia e Fabio Zecchino coordinatore regionale cittadino di azione Nello specifico l'ente dopo aver accudito sei cani e quindi aver applicato il microchip di identificazione riconducibile alla stessa amministrazione ha in animo di reimmettere nelle strade cittadine i simpatici amici a quattro zampi lasciandoli ovviamente liberi e quindi ricostituendo una situazione di randagismo almeno di fatto esordiscono al di là della legittimità di quanto posto in essere dal comune di Francavilla Fontana certamente nei modi e nei termini di legge sul piano politico si ritiene per nulla condivisibile quanto sta accadendo non si comprende tuonano Bungaro e Zecchino come sia possibile pensare di poter risolvere il problema del randagismo con queste innovative soluzioni ed infatti ora verranno reinseriti in città sei animali domani quanti saranno e dopo domani chi vigilerà sui nostri cani si chiedono i responsabili politici di Forza Italia Azione che sottoscrivono questa nota sono sensibili anche per storia personale alle tematiche animalistiche ma pensano che l'amministrazione comunale sia lontana anni luce da un approccio serio e risolutivo sul problema del randagismo Brindisi celebra il settecentesimo anniversario dantesco con l'emissione di un francobollo della città la giunta ha infatti approvato la realizzazione del francobollo dedicato al sommo poeta in occasione di questo anniversario quindi la morte di Dante Alighieri siamo lusingati di aver ricevuto la proposta di un'edizione limitata del francobollo dedicato a Dante Alighieri dalle poste italiane dichiara il sindaco Riccardo Rossi Brindisi viene nominata nel canto del purgatorio proprio dalle parole di Virgilio il nostro omaggio a Dante si intreccia con il ricordo di Publio Virgilio Marone che proprio nel mese di settembre dopo aver trascorso i suoi ultimi giorni a Brindisi morì nella sua dimora sulla sommità delle colonne romane e nostra intenzione conclude il primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi valorizzare la data del 21 settembre e quest'anno lo faremo con questa iniziativa d'eccezione è tutto pronto per l'ottava edizione dei mercati della terra e del mare di Torre Guaceto sentiamo quali sono le novità di quest'anno tutto pronto per l'ottava edizione dei mercati della terra e del mare di Torre Guaceto quest'anno la kermess storica del consorzio e di Slow Food Puglia sarà itinerante convegni, cucina di strada e stand a Serranova la sera le cene didattiche a cura di chef italiani e albanesi nei ristoranti del territorio la tre giorni dei mercati della terra e del mare quest'anno avrà quale tema principale lo sviluppo sostenibile che nasce dal confronto fra realtà diverse nello specifico dal gemellaggio simbolico delle conoscenze e del gusto fra la riserva e i cugini oltre costa albanesi siamo felici di poter finalmente riportare le nostre maestrie ad Algosit ha dichiarato Marcello Longo presidente di Slow Food Puglia certo l'emergenza sanitaria in corso ci ha imposto dei limiti che per ovvie ragioni non avevamo nelle scorse edizioni ma i mercati ci saranno e non possiamo che esserne orgogliosi promuovere la sostenibilità e tutelare la biodiversità è la nostra mission e anche quest'anno daremo il nostro contributo alla lotta quotidiana necessaria a salvare il pianeta quest'anno ospiteremo convegni interessanti ed avremo l'onore di interfacciarci con i relatori eccellenti ha commentato Rocchi Malatesta presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto nelle tre giornate affronteremo temi di fondamentale importanza per la tutela e la promozione della riserva i dialoghi saranno occasione per l'avvio di nuove progettualità con i partner pubblici e privati che operano negli ambiti che tratteremo siamo certi che pur con tutte le limitazioni del caso non deluderemo i nostri visitatori che dire vi aspettiamo il 9, 10, 11 agosto ha concluso Malatesta ad Al Gouzit Prima di concludere il lutto nella comunità brindisina è venuto a mancare infatti Cosimo Alba già presidente della sezione di brindisi dell'AIL Cordoglio è stato espresso non solo da chi ha lavorato a stretto contatto con lui ma dall'intera comunità di brindisi che piange la perdita di un vero gentiluomo sei stato un presidente straordinario un consigliere prezioso un volontario esemplare ed un amico come pochi vivrai per sempre nei nostri cuori commentano dall'AIL di brindisi alla famiglia di Mino Alba le più sentite condoglianze anche da parte della redazione di Studio 100 è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale ma restate con noi perché fra pochissimo c'è 100 notizie e il fatto parleremo di calcio insieme a Fabrizio Caglianiello e Francesco Friuli tutte le novità di calciomercato ma non solo a fra pochissimo grazie a tutti